Ciao amici bentornati in un nuovo video della timecraft come sempre io buddy e io qui con mio cugino un po' cattivo in questo momento Cugino cattivo tu andare via di qua ok hai a brucia fuoco fa male Allora ragazzi oggi i miei amici hanno fame hanno detto che volere mangiare Oh mio dio lui cugino piccolino cattivo quello brutto è cattivo lui fare tanto male Mannaggia cugino piccolo cattivo io dire te di dover andare via da casa mia Io devo trovare modo per schifare loro da casa mia no non è possibile Comunque oggi i miei amici mi hanno chiesto di fare una cosa ragazzi Mi hanno chiesto che visto che loro devono dare da mangiare alle cose di andare a fare cose Però ho visto che fratello Marci ha anche a chi è che ha urlato qua dentro Chi cavolo ha urlato qua dentro Ah vabbè ok io non capisco queste robe comunque io non continuo a non capire Allora fratello Marci ha detto che lui ha trovato modo di fare piccone con questi materiali e scrivere questa cosa qui Molto 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 bene allora già che ci siamo noi rubare cose per fare piccone E lasciare in cambio cose brutte che noi non serve in questo momento No queste noi serve queste noi serve queste non serve queste non serve anzi no queste non serve Queste serve serve non serve Noi oggi dovrei andare comunque a cercare di fare trappola per pesci Io non so come catturare pesci ma qualche modo noi trovare modo di catturare pesci ragazzi No problema grandissimo tanto abbiamo scoperto il fuoco e quindi possiamo cucinare i nostri cari amici pesci Allora ora prima cosa sicuramente farai un po' di materiali del genere per vedere se esce quello che serve a me E poi proviamo un po' di crafting ovviamente ragazzi perché Buddy è stupido un pochino E quindi Buddy ha bisogno di aiuto il Buddy ovviamente perché Buddy è un pochino stupidino Allora intanto noi fare la nostra crafting table portatile molto carina Questo qui questo qui perfetto abbandonare materiali qui tanto qualcuno prima o poi troverà Ok allora andiamo di avanti e facciamo il nostro bellissimo Allora adesso facciamo il nostro bellissimo piccone ragazzi che si dovrebbe fare in teoria In teoria in teoria mi mancano gli stick ecco cosa mi manca Allora uno stick prendere altro stick Buddy bonus stick ok perfetto Prendere altro stick ok perfetto stick presi e facciamo subito il piccone Ok trovato crafting di piccone ragazzi io ricordare che è fatto giusto così perfetto Noi adesso che abbiamo il piccone possiamo fare tanti materiali che noi per essere utili per fare le cose Ok prima cosa però devo prendere gli stick comunque perché gli stick mannaggia servono come non so l'oro ragazzi L'oro serve cioè l'oro in confronto non ha nulla a che vedere con questi stick mamma mia Devo trovare il modo di farli più velocemente però vabbè noi possiamo abbattere un pochino di più gli alberi Per cercare anche di collegare un po' di più le caverne dei nostri amici perché diamine ragazzi Io dovrei cercare anche moglie in prima storia Ah mio dio vabbè Buddy distruggi Sì certo che se Buddy distruggere con piccone lui proprio stupido comunque eh Potevate dire voi Buddy mamma mia o come siete ragazzi mamma mia però vi voglio bene lo stesso tranquilli Allora pezzettini di stick quello che serve noi Ok perfetto intanto cerchiamo di capire come fare trappola per pesci In teoria noi dovremmo fare legno tagliato perché questo poco ma sicuro E poi dobbiamo fare il nostro modo di prendere trappola con sicuramente poter utilizzare tipo i fili Probabilmente potrei utilizzare gli stessi fili che utilizzo per le piante tipo questi no Questi potrebbero essere molto molto utili Intanto sto andando anche a esplorare il mondo per vedere cosa hanno fatto miei amici da queste parti Molto carina questa casa caverna casa è una casa verna bella casa verna Dopo aver passato diversi minuti amici ho capito come fare sega circolare per distruggere gli alberi Nel miglior modo perché Buddy cavernicolo è sempre bravo lui intelligente Buddy cavernicolo anche se i suoi amici in realtà non vogliono tanto bene lui Anche perché forse ha una faccia brutta Però poco male allora ragazzi dobbiamo costruire così Prendere albero prima cosa quello che ci serve è un grande albero con tanta legna E poi fare grande crafting table che ho già messo là dietro per provare a fare materiali Ci ho perso praticamente ragazzi circa una quarantina di minuti a capire come si craftasse questa roba Perché girare in tondo non è per niente facile e sto anche finendo il cibo Questa è una cosa per cui io ho bisogno di fare osi di pesca mannaggia Osi di pesca cosa migliore di tutte Allora noi fare così Fare così Pezzi di legna noi avere Ok Poi fare così Fare così E slab noi avere Fare così Fare così E avere twin slab Quindi quelle piccoline E fare così E fare così E queste dovrebbero essere quelle giuste per poter fare rete Ok Rete in teoria fare in questo modo Perché secondo me funzionare Non funzionare rete in questo modo Mannaggia buddy Mannaggia buddy sbagliato Provare così magari rete bella diversa Funzionare meglio in questo modo Non funziona neanche così Come cavolo si può fare una rete ragazzi Io non ho proprio la minima idea Dovete aiutarmi anche voi Scrivetelo nei commenti se lo sapete E se siete veramente bravi Ok ragazzi ho trovato il crafting della rete Oakfish trap Eccole qui le nostre trappole per pesce Quindi noi poter adesso farne tante in realtà Facciamo tante trappole per pesce Così i nostri amici Poter poi mangiare tanto pesce Che fa bene alla salute Fa bene a tutto Tanto pesce ok Fa proprio proprio bene 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 pesce Bene buono pesce Ok Quattro trappole direi che bastano ragazzi E adesso è anche arrivata notte Quindi io andare a dormire in un letto di caverna qua vicino E rubare a letto qualcuno A me non interessa Ok capito Perché Buddy cattivo Buddy no in realtà Buddy no cattivo Buddy bello Ok buonanotte ragazzi Buonanotte Buddy dorme nel letto di qualcuno Che non sa chi sia Molto bene Fantastico Allora noi mangiare cibo Cibo marcio Perché noi avere solamente cibo marcio Questa cosa buona Però devo dirvi che sono molto contento Buddy molto contento Di aver creato reti di pesca Per poter finalmente mangiare cibo decente Signor scheletro Non è momento di parlare con me Io devo andare via un attimino Lei stia lì che io devo fare cose Ok Grazie mille signor scheletro Allora intanto ragazzi Possiamo completare L'advancement Di trova il modo Per craftare Le 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 Pesca per vedere se funzionare Le mie farm E Piazzare qua Piazzare come piazzare Buddy Diamine Come cavolo mettere io in acqua Intanto io provare a catturare i pesci con mano Magari funziona anche lui Mannaggia schifo Uh funzionare Buddy finalmente ha Pesce buono da mangiare Finalmente Buddy mangia pesce crudo Molto buono Pesce crudo Io però chiedere anche a miei amici Se riuscire a cuocere pesce Mannaggia loro Mannaggia E poi devo trovare di posto Bello per piazzare di trappole Probabilmente sarà molto difficile In questo momento Ma Buddy non si arrende Buddy ci prova di nuovo Buddy prova a piazzare trappola qua Trappola qua non funziona Mannaggia Proviamo a mettere di acqua qua Oppure proviamo ad andare un pochino Di più lontano Ok perfetto Trappola qua buona Trappola qua ancora molto buona Trappola qui buona E trappola qui buona Perfetto Noi trovare Adesso dobbiamo trovare Una cavolo di esca Come cavolo si faranno le esche Per queste trappole Cosa mangiano pesci Carne marcia probabilmente Non lo so Adesso vedremo ragazzi Proveremo anche Di creare una Una cosa Cavolo è questa cosa Lanciare uova No io pensare di poter mangiare uova Ma l'ha visto altro pesce Buddy si lancia contro altro pesce Mannaggia Buddy fame Molta fame Ok Buddy ha preso anche altro pesce Finalmente lui può mangiare altro pesce Ok forse Buddy ha avuto illuminazione ragazzi Forse Buddy ha avuto illuminazione Buddy deve cacciare altri pesci Per lavorare altri pesci Con attrezzo bello Che ha scoperto Buddy Che fare in questo modo Trovato in caverna di scrittura Ok perfetto Allora Io avrei visto che attrezzo fare Così Così No però serve quello di più grosso Ok Usare punta di acciata Quella che serve per tutto Ok E ok Dovrebbe essere tipo simile a questa Mannaggia Però io non ricordo ora bene Come cavolo ho fatta Mannaggia me Fatemi provare un po' di volte Allora così non funziona Ma se noi facessimo tipo Così E facessimo questa roba Con le twine Probabilmente Potrebbe di funzionare Eh ragazzi Buddy potrebbe di aver trovato Nuova cosa Utile per fare Cose con flinte Lama cattiva Lama non vuole aiutare noi Lama non aiuta noi Ok va bene Lama Signora lama Io triste Uh lama trovata Questa lama di lavoro Lama di lavoro Serve praticamente per scuoiare i pesci E utilizzare Cioè In modo cattivo in realtà Però serve per scuoiare i pesci E i E dover creare Ovviamente le trappole Con i loro corpicini Allora vabbè Comunque parliamo di altro Cerchiamo di catturare tanti pesci Perché noi dov'era bisogno Di tanti pesci E quindi Buddy adesso va a cacciare Un po' di pesci Ok ragazzi Buddy ha trovato Un fiume bello Con tanti pesci Pesci poter essere buoni Per noi Aia Aia questo fa male Che cavolo di pesci era Oh mio dio Sto per vomitare Cos'è questo schifo Buddy vai lontano di qua Esci di acqua Mamma mia ragazzi Ma che cavolo Ho appena incontrato Cos'è questo di schifo Mannaggia lui Allora a vedere se io poter usare Ok Ok Noi aver potuto fare esca Con pesce cattivo Sperando che pesce buono Aiuti noi a recuperare Un pochino di vita Andare a cercare di pescare Pesce buono qui Buddy fame Tu aiuta Buddy Buddy fame pesce Pesce tu mangia Ok Pesce tu mangiato da Buddy Molto buono Pesce mangiato da Buddy Allora Lì altri pesci Quelli cattivi Quelli devo dire A miei amici Di non toccare E di non poter Di non mangiare quelli pesci Perché veramente cattivi Quei pesci Fanno veramente tanto male Ai a Buddy cattivo Buddy Buddy con i pesci cattivi Io avere di fare di lancia Ok ragazzi Buddy ha trovato modo Di fare cose di pesce Veramente buone E trovato anche Un bel po' di cibo Con pesce uccidendo Ma va bene così ragazzi Noi dovremmo mettere trappole Per i nostri cari pesci E aspettare che pesce Abbocca la nostra trappola Quindi noi dovremmo aver fatto Praticamente pescare pesce Utilizzare questo All'interno di coso Insieme a pesce qui E dopo che aver fatto Con pesce qui Noi uccidere praticamente Di ridurre in tanta poltiglia Pesciolino In modo che altri pesci Possano arrivare E mangiare Lì dentro Molto Molto buono Con pesce così Allora così Così E così Abbiamo finito Le nostre esche E aspettare che adesso pesci Abboccare Sperando che ci mettano A poco tempo Intanto ragazzi Io Flaggo questa Perché io l'ho fatta L'abbiamo fatta ragazzi E l'abbiamo fatta Ok Allora questa qua E l'avevo fatta L'ho fatta il crafting Come si fa? Ok Io l'ho fatta L'ho fatta Ah perché noi doveri scoprire Esca con altra cosa Mannaggia Vabbè Non problema Io comunque avere fatto Questa cosa Advancement è fatto Ho scoperto come creare La pesca per i nostri amici Quindi noi avere costruito Farm di pesca Per nostri amici Molto utile questa cosa Per farm di pesca Ora devo dire Anche a loco Di creare altra cosa Però ho bisogno di Marci Che scriva cose Quindi ragazzi Per l'episodio di oggi È tutto Da Badicavernicolo Ci vediamo in un altro video Perché devo andare a parlare Al mio caro amico Marci E dirgli tante bellissime cose Ditemi anche Non lo so Consigliatemi qualcosa da fare In questa preistoria ragazzi Perché io di trovare Tanto cibo Buono Per voi amici E per tutti loro Molto bene Badicavernicolo Tutto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti